Per parlare di coronavirus, l'Ausla Romagna ha messo a punto un piano per la gestione dell'emergenza in modo efficiente nell'eventualità di un aumento dei casi. Il servizio di Serena Biondini. La settimana scorsa abbiamo alzato un attimo il livello di attenzione in arancione, perché avevamo un riempimento delle malattie infettive importante. Adesso di fatto siamo tornati in verde, rimaniamo borderline, siamo con l'attenzione molto alta anche per vedere che effetto potrebbe avere la repertura delle scuole. Tre livelli, verde, arancione e rosso, tre diversi scenari di pandemia ai quali corrispondono azioni automatiche negli ospedali di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini. È il piano della Usla Romagna per fronteggiare la nuova escalation dei pazienti Covid. Attualmente sono 50 quelli ricoverati nei reparti di malattie infettive, 9 in terapia intensiva. Quando il tasso di riempimento raggiunge una certa soglia si passa al livello successivo. I reparti si riorganizzano per aumentare i posti letto Covid, dai 155 del livello verde ai 311 dell'arancione fino ai 529 del rosso, ma evitando di bloccare di nuovo le altre prestazioni sanitarie.